Siamo italiani, siamo in difficoltà, siamo madri e padri separati, cittadini disoccupati o con lavori precari che vogliono dare un futuro dignitoso ai propri figli. Queste le parole riportate sul volantino affisso dalle 20 famiglie che hanno occupato alcuni prefabbricati in via delle Baleniere 263 ad Ostia. Si tratta di alloggi di proprietà del Ministero della Difesa e gestiti dell'aeronautica militare, abbandonati da diversi anni. Attraverso il consigliere del decimo municipio, Luca Marsella, Casa Pound ha di fatto rivendicato l'occupazione. Mi auguro che prima di richiedere lo sgombero di questa nuova realtà, dichiarato Marsella, si pensi piuttosto a liberare l'ex colonia Vittorio Emanuele III. Depositeremo un'interrogazione alla sindaca, fanno sapere Giovanni Zannola e Flavio De Santis del Partito Democratico. Intendiamo capire come sia possibile che mentre la maggior parte dei cittadini lidensi è confinata nella propria abitazione, noti soggetti appartenenti a Casa Pound e riescano ad occupare senza alcun tipo di controllo uno stabile di proprietà del Ministero della Difesa. Inoltre scriveremo al Ministro Guidi per liberare lo spazio e restituirlo alla cittadinanza con un progetto collettivo. Anche Sinistra Italiana chiede di fare chiarezza e condanna il gesto. In un'ottica distorta e reazionaria, si legge in una nota, sia ad occupare un immigrato in difficoltà, quest'ultimo è automaticamente un delinquente, mentre se la stessa occupazione la fa Casa Pound diventa un atto eroico.